partete lungo la corda tra i moon si mantiene in vantaggio avendo all'esterno grimilde quindi loving wars a largo segue apremo a con vicino meltino ed in coda cielo rojo all'imbocco della retta opposta alle tribune passa in vantaggio grimilde nei confronti di tri moon che ha all'esterno loving wars seguono apparigliati meltino e apremo a nei confronti di cielo rojo a metà della retta opposta non avvengono cambiamenti e sempre in vantaggio grimilde mentre in seconda posizione si sistema loving wars a che ha superato tri moon in quarta all'interno apremo a con all'esterno meltino ed in coda sempre cielo rojo cavalli all'imbocco della curva di fondo prosegue al comando grimilde loving wars in seconda posizione e tri moon in terza poi apremo a con ai fianchi sempre meltino e cielo rojo in coda cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con grimilde che alla corda si mantiene leggero vantaggio ora al suo esterno si propone con maggiore insistenza loving wars trascinandosi a largo tri moon apremo a rimane per linee interne insieme a cielo rojo mentre invece meltino cerca di avanzare a centro pista sta allungando grimilde a 500 dal palo nei confronti di loving wars a centro pista tri moon e più a largo ancora meltino quindi apremo a siamo a 250 dal palo con grimilde lungo la corda ancora in vantaggio nei confronti di tri moon e apremo a che cerca di avanzare al centro pista nel tratto finale grimilde all'interno è attaccata a fondo da apremo a che termina a largo battendo tri moon per il secondo posto poi meltino rimediamo le immagini con il grimilde numero 6 dello schieramento sorpresa della corsa manuel porco in sella in testa da un capo all'altro è riuscito a mantenere la meglio sul palo dall'attacco finale di apremo a numero 2 dello schieramento che ha piegato nei pressi del palo tra i moon per il secondo posto quindi 6 2 5 il probabile ed ufficioso arrivo della quarta di napoli